Quinto applicati i costi per produrre l'olio extravergine in Puglia a causa dell'esplosione delle bollette e dei rincari di materie prime, etichette e vetro che mettono in ginocchio le aziende olivicole e i frantoi. E quanto ribadisce Coldiretti Puglia in un anno profondamente segnato dai cambiamenti climatici che hanno inciso sulla produzione olivicola di mezzandola e dai rincari di energie e materie prime che pesano su imprese e famiglie. Coldiretti ricorda come l'olivo in Puglia sia presente su oltre 370.000 etari di terreno coltivato con 5 olio extravergine DOP e 1 IGP olio di Puglia. Non è più rinviabile un piano strategico nazionale dell'olivicoltura che mette al centro le aziende che sono sul mercato, producono reddito e occupazione, oltre al recupero dei tanti oliveti abbandonati che devono essere rinnovati per ridare ossigeno e speranza al nostro territorio, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.